tenetevi pronti perché dopo mesi di assenza barbara d'urso ritorna in tv e lo fa che in quella che una volta era la concorrenza ossia l'ex volto di canale 5 sbarcherà infatti sul rai 1 a domenica in giorno 3 marzo sarà ospite dalla sua amica mara veniere che le ha dato appuntamento via social ecco cosa scrive mara a domenica barbarella scritto su instagram post che ha subito così fatto il giro del web che potrebbe rappresentare un nuovo inizio per il famoso volto di mediaset dopo l'addio infatti a pomeriggio 5 passato a mirta merlino barbara d'urso si era detta pronta a iniziare una nuova vita all'estero ricordiamolo era volata a londra per quella che aveva definito con i suoi follower l'inizio di una nuova avventura ma dopo aver trascorso tre settimane nella capitale britannica la ex signora della domenica complice probabilmente anche un po di nostalgia era tornata in italia e già allora si vociferava di un suo possibile approdo a domenica in ma questa volta è pronta con un'intervista sicuramente tanto speciale lei infatti poco tempo fa aveva detto dopo aver sciolto il contratto con mediaset ora parlo io e chissà se domenica 3 marzo a domenica in da mara venire sarà proprio la volta buona voi cosa ne pensate scrivetemelo giù nei commenti lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale io ti aspetto per questo ma per tanti altri prossimi video